continuiamo questa mini serie dedicata alle quadruple con una quadruple italiana come anticipato appunto si tratta di una quadruple italiana e vediamo subito la scheda tecnica il produttore in questo caso non si tratta di un birrificio ma di una birra firma nix beer e siamo in italia il nome di questa birra è aller boss lo stile è una quadruple o per essere più precisi una belgian dark strong ale e la categoria di riferimento è la 26 di del bjcp il grado alcolico di questa birra è 11,3 gradi il prezzo in cui è un piccolo punto di domanda perché non ricordo quanto costi questa birra direttamente da nix questa bottiglia è stata regalata da nix stesso quindi non ho il prezzo il bicchiere suggerito per la degustazione è o un tulipano o come in questo caso utilizzerò io una coppa tra pista con una coppa aperta e sì si tratta di un primo assaggio allora alcuni piccoli dettagli su informazioni che abbiamo visto nella scheda tecnica innanzitutto come avrete notato c'era la parola birra firmi non birrificio perché appunto si tratta di una birra firma ossia di un produttore che appunto fa le proprie birre su un impianto che non è di proprietà quindi in questo caso nix noleggia tra virgolette un impianto di proprietà di un altro birrificio che se non vado errato è the wall a varese e produce la propria ricetta quindi la differenza appunto tra birrifici e birr firm è sostanzialmente questa ci sono un sacco di esempi famosissimi di birr firm io per esempio anni fa ricordo che ho imparato questa differenza iniziando a bere per esempio mickeller che all'epoca se ricordate non aveva nessun impianto di proprietà ma andava a produrre dalla limarca si spostava al vicino belgio per produrre le proprie birre e una delle cose che secondo me molto importante e ci tengo a sottolineare sempre la qualità del prodotto finito non è in alcun modo legata al fatto che il produttore e il master birra in questo caso sia proprietario o non sia proprietario dell'impianto anzi abbiamo un sacco di birr firm vedi michele era citato prima o per stare in italia vedi proprio nix che hanno prodotti di qualità altissima anche se appunto non si tratta di avere la proprietà dell'impianto di produzione e d'altro canto ci sono birrifici che magari hanno un impianto proprio e la qualità dei prodotti non sempre diciamo è eccellente per quanto riguarda la birra in questione appunto il produttore nix beer piccola introduzione nix era il mastro birraio di un birrificio che si trovava sempre nella zona di pavia che si chiamava etnia dopo l'esperienza in etnia appunto ha fondato la sua birr firm e sempre su pavia a un locale dove appunto viene le le sue birre di nix ho assaggiato qualcos'altro in particolare io raccomando sempre a tutti la double planche la vit vit di nix che molto interessante se come poi siete amanti del belgio lì ci trovate tanta tanta roba davvero interessante in quella birra non ho mai assaggiato assaggiato questa qui la quadruple ora lo dico effettivamente un po per tirar me la mia è stata regalata da nix una volta che stavamo chiacchierando visto che siamo quasi vicini di casa diciamo così e quindi appunto siccome ho una passione per il mondo delle delle belghi mi ha regalato questo quindi appunto delle altissime aspettative sia perché ho già assaggiato altri prodotti suoi sia perché ho letto sempre cose molto positive sulle sue birre sia perché mi è stata presentata da lui stesso associandola per similitudini alla rochefort 10 quindi insomma ho davvero delle aspettative altissime ultima ultima cosa prima di passare all'apertura della birra le bottiglie allora l'estetica delle bottiglie è sempre più o meno la stessa cambia il colore del tappo in base al tipo di birra in questo caso un tappo nero senza alcun logo sulla sulla superficie le bottiglie di questo formato le 33 hanno tutte un fondo con questa bottiglia stilizzata sulla texture appunto sul fondo è un colore diverso di sfondo e tutte riportano il logo di nix che appunto questa immagine stilizzata che lo rappresenta perfettamente sul lato c'è il suo claim che appunto craft beer e good beer e sull'altro lato dell'etichetta appunto viene riportato lo stile quadruple gli ingredienti acqua malto d'orzo zucchero luppolo e lieviti e va beh alcuni riferimenti al suo sito internet e il fatto che la birra è riferimentata in bottiglia ok direi che possiamo passare all'apertura di questa birra come dicevo il bicchiere è appunto una coppa trappista è ancora umido perché l'ho appena lavato può andare bene anche un tulipano secondo me in questo caso però ho scelto questo qui perché le quadruple tendenzialmente sono associate al mondo delle abbazie trappiste e molti birrifici trappisti consigliano per le proprie quadruple mi vengono in mente scimeve svletter insomma e altri birrifici che hanno bicchieri così a coppa aperti per le proprie biere più più alcoli che incomincia ad esserci qui un pochino di lievito lo si vedeva andare sul sulla parte della superficiale della schiuma quindi preferisco lasciarlo all'interno anche perché la bottiglia rimasta diverso tempo in verticale quindi si è depositato ha sedimentato perfettamente sul fondo e in questo caso lo voglio lasciare qui perlomeno per la degustazione diciamo descrittiva appunto iniziale di questa birra allora cominciamo quindi come al solito dall'aspetto visivo il colore della schiuma è un bellissimo color color crema la texture è leggermente irregolare ma tutto sommato molto fine sembrerebbe essere abbastanza persistente nel senso che certo sicuramente si è smontata già un pochino rispetto a quando ho finito di versarla ma resta il classico pizzo sul bordo del del bicchiere il colore della birra vediamo un po contro luce allora è un colore nero ebano per essere più precisi molto molto scuro la birra sembra tutto sommato abbastanza limpida e ci sono leggerissimi riflessi un po più chiari ma solo solo in contro luce comunque il colore della schiuma della della birra è appunto molto molto scuro che passiamo al naso allora come previsto dallo stile ovviamente al naso già la cosa che domina su tutto è sicuramente l'aspetto legato innanzitutto ai malti la premessa l'intensità aromatica è direi medio bassa non è elevata soprattutto se la paragono ad altre quadruple e degustate appunto anche recentemente in questa mini serie dedicata allo stile intensità appunto aromatica intensità olfattiva bassa ma comunque complessa che cosa c'è sicuramente c'è tutta una parte appunto legata ai malti che vanno sempre nella direzione diciamo del del pane c'è una parte buonissima che io prezzo tantissimo che è tutta la parte speziata tipicamente fenoli speziati c'è una buona parte alcolica e c'è che trovo molto interessante una parte secondo me legata alla vaniglia non è raro trovare questa cosa in birre così complesse ma non c'è sempre a volte si trova in molte birre diciamo con malti scuri questo aroma che può appunto ricordare la vaniglia anche se non è presente ovviamente la vaniglia in questo tipo di queste tipologie di birre ci sono birre in cui ci sono ovviamente anche le inserite le bacche bastoncelli di vaniglia non è questo il caso ma comunque c'è un aroma che ricorda tanto appunto questo questo frutto ok direi che possiamo passare alla degustazione al palato beh interessantissima anche in bocca devo proprio dire siamo perfettamente all'interno dello stile capisco il paragone con altre birre beliche allora partendo dall'inizio sicuramente c'è questo inizio molto boccato anche molto caldo perché l'alcol si percepisce fin dall'inizio anche se ovviamente come al solito non direi che si tratta di una birra di oltre 11 gradi c'è un buon calore un buon warm in bocca soprattutto ovviamente quando si manda giù il sorso ma è uno di quelle biele davvero davvero pericolose perché il tasso alcolico è perfettamente nascosto all'interno di tutta questa complessità di malti che si è di dolcezza che si alternano appunto in bocca alternano la parola giusta perché appunto c'è un inizio abboccato arriva una parte un po più amara ma finisce comunque sempre sul dolce con una persistenza caramellosa nel senso di caramello che appunto rimane in bocca e continuo a sentire anche appunto dopo dopo aver mandato giù il sorso c'è un una quantità anche di amaro che bilancia perfettamente questo dolce non la rende stucchevole se sicuramente il gusto dolce è quello che prevale in bocca per quanto riguarda poi il retrogusto cosa c'è sicuramente un alcolico importante c'è un leggero anche torrefatto secondo me che non si ritrovava al naso e in effetti solitamente nello stile non è previsto un torrefatto a livello punto aromatico ma appunto lo troviamo solo sul retrogusto sul retro il fatto molto interessante e appunto questo dolce importante ma non stucchevole la caratteristica principale che secondo me rendono questa birra un'ottima birra sempre per quanto riguarda le sensazioni boccali la carbonazione allora questa è una cosa interessante perché è molto variabile sulle quadruple e troviamo quadruple anche con una carbonazione piuttosto sostenuta mentre in questo caso siamo nella fascia direi più bassa cioè c'è una frizzantezza ma è molto discreta e molto contenuta sto riannusandola un pochino perché uno degli aspetti che ho notato paragonandolo ovviamente ad altre quadruple è che non c'è un evidente aroma fruttato che in alcune quadruple è presente il classico aroma di frutta rossa o comunque frutta scura non non è presente ma non è secondo me un problema anzi può essere un po più caratterizzante tirando quindi un po le somme che dire sicuramente un ottima quadruple mi ha lasciato appunto un attimino perplesso la carbonazione non elevata ma non ma semplicemente perché ho in mente effettivamente quelle due quadruple belghe di riferimento che hanno tipo la rochelle che ha una carbonazione comunque bella intensa devo anche dire questo è un lotto che ha già parecchio tempo e potrebbe essere anche condizionato da questo qua fatto che abbia già questa birra in frigorifero da quasi un anno e magari abbia aspettato adesso a berla al di là però appunto della questione carbonazione sicuramente una birra molto valida una birra molto complessa se vi piace il genere ovviamente è un altro ottimo esempio made in italy di approccio a questo stile tipicamente bega comunque associato al mondo dell'abazia e delle trappiste in generale questa quindi era la Elbrows di Nixbeer Skoll